Sei pronto all'intervista? No, devo dire ciao a tutti No Cognome e nome? Mattiano è nato È un cognome già sentito, perché? Perché c'è un sogno Che fa? Agonistica Soprannome? Nardels Nardels Anni? 11 Che classe fai? La prima media La materia che ti piace di più e la materia che ti piace meno Quella che mi piace di più, tecnologia Quella che mi piace meno Storia Animale preferito? De parma Colore preferito? Blu Cibo preferito? Pizza Che sport fai? Ginnastica Artistica Artistica Da quanti anni la fai? Da 4 E perché hai scelto proprio la ginnastica? Perché è un grasso Perché? Perché è un grasso Perché è un grasso? Non perché lo faceva già Mira? No Ok E quante ore ti alleni a settimana? 18 O 20 Quanti giorni? Poledì Poledì Quanti giorni Per colore E No E sabato Per tre ore Sono Cinco Cinque giorni Cinque per tre? Cinque No Oh mio Dio Quindici Quindici E Il tuo attrezzo preferito è quello che non sopporti? Parallele È il preferito? Sì È quello che non sopporto Allego E L'elemento più difficile che sai fare? Decidi tu a che attrezzo? Ehm La sbarra La revolta Ok Corpo libero? Ehm Rolata Per il fricotello Ok E Come ti senti quando sei in gara? Male Male in che senso? Che sei preoccupato o che proprio stai male? Ma che sono preoccupato Hai dei portafortuna in gara? Sì Cosa? I polcini Chi ti porta di solito alle gare? La madre La madre Come ti senti quando non ti viene qualcosa? Ehm Bene Normale È normale che non ti venga qualcosa? Sì Cioè ci riprovi e basta? Sì Ok Che rapporto hai col tuo allenatore? Con Teo? Stretto perché Perché prima di fare ginnastica facevo Gufu con lui Ah ok E quindi Sono tanti anni che sto con lui Ok ma ti sgrida spesso o? Certe volte Certe volte Per cosa ti sgrida di più? Perché faccio battute Un tuo pregio E un tuo difetto Sono simpatica E il difetto Disordinato Disordinato E litighi in casa con mamma? No Cioè sì Un po' Perché devi mettere a posto? Sì Ok Fai un saluto matto? Ciao Ciao Ok